ci penso un attimo allora a dubai credo farà molto caldo la prima riunione a dubai mi aspetterei di iniziare un po in ritardo beh forse alla prima riunione non parleremo subito di soldi magari una bella tazza di tè mi immagino una sala riunioni al centesimo piano ma vai sui social questo video